Hai visto anche tu il mio video di un paio di settimane fa dove ti parlavo di tre categorie di libri da saccheggiare per finalmente farti una cultura sulla musica e sul tuo strumento? Ciao sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore del programma The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e con questo video voglio rispondere alle numerose richieste che mi sono state fatte su titoli di libri da leggere presi dalle tre categorie che ho elencato nel mio video precedente di un paio di settimane fa. Ho deciso di pubblicare un video ogni tre mesi in cui ti segnalo la lettura di un libro per ogni categoria, in modo che tu possa leggere un libro al mese, perché se tu leggi un libro al mese sul tuo argomento tu potrai dire di essere un esperto del tuo argomento, cioè come musicista avrai una certa credibilità, perché avrai una cultura, avrai fatto ricerca. Cominciamo con il primo libro, parto dalla categoria biografie. Verso la fine dell'anno scorso è uscito questo libro, è l'autobiografia di Phil Collins. Phil Collins è un personaggio che ha cavalcato l'onda dagli anni 70, 80, 90, è stato il batterista dei Genesis nella prima metà degli anni 70, poi è diventato cantante nella seconda metà degli anni 70, poi negli anni 80, mentre faceva la carriera con i Genesis che stavano esplodendo a livello mondiale, lui ha iniziato una sua carriera da solista con un successo addirittura maggiore di quello che aveva con i Genesis. Qui dentro c'è anche la sua vita privata che non è stata, almeno dalla sua descrizione, così fantasmagorica come quella professionale. Io te lo consiglio perché è vero che il personaggio, la figura umana non ne esce proprio, diciamo, esaltata, però bisogna apprezzare il coraggio di uno così, che ha fatto veramente la storia della musica mondiale pop e rock, di mettersi a nudo e di dire la verità sui suoi problemi, su il perché le cose nella vita privata andavano male. Spesso si attribuisce la colpa dei suoi fallimenti a livello personale, quindi chapeau a Phil Collins che resta sempre comunque uno dei miei artisti preferiti. Il libro che ti voglio segnalare per la seconda categoria, quella dedicata alla storia della musica e anche della parte che riguarda il musicista in sé come persona, come individuo pensante, è questo libro scritto da Madeleine Bruser e si titola L'arte di esercitarsi. Questo libro mi è stato segnalato tempo fa da mio carissimo collega e amico e l'ho trovato molto interessante, bellissimo, perché questo libro parla di come trasformare la parte pratica dello studio pratico, meccanico, dello strumento, da una cosa noiosa e dolorosa a una cosa bella, eccitante, emozionante. Ti spiega come analizzare le tue convinzioni sbagliate riguardo magari alle ore passate a esercitarti, perché magari per te sono molto noiose e spesso e volentieri non ne hai voglia. Leggendo questo libro ti verrà voglia di studiare sempre di più, ti verrà voglia di analizzare il tuo corpo, come reagisce agli studi di meccanica e di tecnica del tuo strumento. Ci sono dentro degli esercizi di stretching. Io direi che è assolutamente imperdibile, non si può non avere questo libro. Ok, andiamo con la terza categoria, la saggistica. Il significato della musica scritto da Marius Schneider è veramente spettacolare. Se sei interessato a capire la musica da dove viene, la musica nelle varie culture nel mondo, la musica come era considerata tantissimi anni fa, anche se non capirai tutto quello che c'è scritto dentro, non importa. Comunque cominci ad avere nella tua testa un'idea di che cosa è la musica. La musica non è la radio che senti tutto il giorno o al supermercato o vedi in televisione. La musica è tutt'altro. Quindi se vuoi considerare la musica come una cosa seria, io ti consiglio di partire da questi libri. Questo è il passo fondamentale da fare per distinguersi. Devi capire, devi assimilare e poi devi condividere, devi trasmettere agli altri quello che tu sai. Non devi tenertelo per te. Facciamo questo lavoro che è molto bello, interessante. A me piace molto leggere libri di questo tipo, forse più delle biografie, ok? Questi magnifici tre libri li trovi tutti e tre su Amazon. Cosa aspetti? Procurati questi tre libri e leggi.